Aia ciao, ciao Ismaele. Ciao, ciao Mattia. Ma il caffè? Volentieri. Prendi, prendi. Allora, cosa mi racconti? Tutto bene, tutto bene. Guarda, ho appena finito di preparare il compito in pezza C. Bene, bene. Secondo te l'hai troppo corto? Carica, carica. Sì, aggiungo qualche domanda di seoria. Sì, aggiungo qualche domanda di seoria. Ok, ok, perfetto. Scusate se mi interrompo ragazzi. Ciao Marco. Ciao Marco. Ho lasciato a casa il penarello. Mi presteresti un paio di penarelli? No. Uno? No, no, no. Avresti il penarello da prestarmi? Guarda, scusami ma è già suonata, dovrei andare a fare il compito in terza C. Mi dispiace. Ciao Marco.